qui andando a passare di postazione in postazione di bottega in bottega ci prendono per la gola e qui abbiamo le pettole vedete con che maestria le pettole vengono fritte nell'olio e vedete la signora qui con il copricapo bianco che voleva fare l'attrice beh signora le diamo nel nostro piccolo lei diventa una delle protagoniste del presepe vivente cosa ci dice? sempre un'impresa emozionante con tanto lavoro dietro e diamo sempre un contributo a questo paese che è pieno di novità e anche originale e quindi noi diamo questo impegno friggiamo le pettole come si suol dire tante altre postazioni io lancio un messaggio a tutti coloro che ci vedono a venire in tanti e a raggiungere e vedere questo meraviglioso posto che abbiamo qui in zona e che è bellissimo